... Main card, ormai sono match professionistici, iniziamo con il primo match, combattono nella categoria di 77 kg di peso, accogliamo all'anno 2 quest'atleta che ha 21 anni e servisce nelle NMA, per i piedi d'apparitica certa, per i divamentador, entra Nicola Diana! Ed ora il suo sfidante, Orlando Rosso! Per l'età di 25 anni, viene da Salerno, il suo sfido è il Brasile Jiu Jitsu, da pro di NMA ha un record di una vittoria, 0 sconfitte e 0 pareggi, viene da Salerno, per la nuova in vita, entra Salvatore, terra lavoro! Per questo meso sono previsti tre round a 5 minuti, additra Mario Puccioni. Grazie a tutti! 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 10 secondi! Controllalo! 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 10 secondi! 10 secondi! Ricuralo! Preoccupiamolo! Preoccupiamo! Provo! Applausi! Grazie a tutti! Grazie. le gambe alzano vai alzato vai sul sinistro alzano forza forza Nicola vai ok perfetto vai sulla cintura vai sulla cintura vai sulla cintura non ti fa piegare che mi hai detto vai sulla cintura perfetto non si lasce la cintura su quella quarta bravo Nicola bravo Nicola ci tocchiamo vai forza Nicola vai i campi campi vai vena salvatore salvatore esce salvatore esce ottimo vai salvatore prendi i tempi e sta ripresa salvatore mua martella salvatore lavorato la cintura oscura e picchia oscura e picchia mettiti una mano sotto la scella da sinistra metti una mano sotto la scella sinistra così si blocchi tutto quella metti il palmo della mano sotto la caccia da scella sinistra la tua mano destra ti sai lavori vai salvatore alza quella testa e colpisci che sarei la caccia salvatore 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 occhio che sale oltre che sale salvatore oggi che tiene il piede da lanta lei fai con il piede da lanta fai con il piede su lanta salvatore non deve tenere il suo piede sulla tua anta non deve tenere il suo piede sulla tua anta trovi quell'altra Svilta! Svilta! Salvatore vai! Salvatore picchia! C'è il voto? Salvatore vai! Vai! Salvatore scura e picchia! Bene perfetto continuo vai! Vai Salvatore vai! Forza la rigola! Vai Salvatore vai salvatore vai! Salvatore lavora per passare e picchiare! Forza! Forza! Ti lavora sempre col piede sull'anca vai! Vai boi boi boi! Bravissimo! Esce! E' il testo! Passa! Pimpia! 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 Vakora con il braccio sinistro. Veda! Aspettate ancora! Lavissime! Vai! Ricarica sotto! Vakora! Ricarica sotto! Vakora! Ricarica sotto! Vai, entra, entra, vai, entra, entra. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Vai di ora! Vai con i botti! Forza! Vai di ora che vincisi! Forza! Forza! Vai! Forza! Vai che ce la fai! Vai che ce la fai! Vai che ce la fai! Forza! Vai che ce la fai! Non mi faccia fare la posizione! Giro! 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 Vieni le messi! Forza! Ottimo! Vieni! 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 Vieni le due! Forza! Forza! Vieni le due! Vieni le due! Vieni le due! Vieni le due! Vieni i supporti! I country should go! Vieni l oppureource! Ha il alsocio lo Come si delbanevo di thinkers! Giro! Par dammit la perdita Andi arbitra ha la giornata Grazie a tutti. 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 Grazie.